Buongiorno, ecco la ricetta di oggi sono le alici scottadito, veramente gustose e molto veloce. Scottadito perché le alici vengono mangiate appena sfornate dal forno quando sono ben bollenti. Cosa ci servono? Dele alici ben pulite, poi per l'impanatura del pangrattato che viene aromatizzato, in questo caso con prezzemolo, del sale, aglio tritato. Ecco, impaniamo le alici per bene, in tutto il loro corpo, e le disponiamo su una teglia foderata con la carta da forno. Disponiamo le alici una a fianco all'altra in modo da poter poi farle cuocere bene. Aggiungiamo dell'olio, in questo caso io ho messo due cucchiai, e poi in forno a 180 gradi per 10 minuti. Ecco qui il risultato finale. Mi raccomando, provatela e poi fatemi sapere. Ora tocca alla prova assaggio. Mmm, devo dire da ottime, alla prossima.